La DC storica, come è stata definita dalla Corte di Cassazione, è al lavoro, da nord a sud. Per il sud ho l'onore di rappresentarla io come commissario, insieme a tanti altri amici della Sicilia e vogliamo un po' riportare un'area più serena, un'area più tranquilla, come è giusto che sia la DC, cristianità, famiglia e unità. Abbiamo ritenuto tutti insieme, la volta scorsa, il comitato regionale che era a Sant'Agata di intestare la sede regionale a un grande martire della DC, che era molto buono, era molto generoso, a Pier Santi Mattarella, perché è un uomo che si parla poco. E allora abbiamo ritenuto, approvando un documento che già c'erano i vertici a Roma, intestare nel brevissimo tempo Pier Santi Mattarella, la sede regionale DC, con una lapide che andremo a fare, simpatica, ricordare questo vero siciliano, eroe siciliano e che ci possa illuminare per andare avanti. Infine alcune statistiche e i casi di cui non si parla abbastanza. La prima cosa sono le vittime dello Stato, gli imprenditori che si sono suicidati e mai risarciti. Uno, secondo le carceri. I suicidi in carcere sono così tanti che non se ne parla mai. E poi le vittime di missioni di guerra, che nel tempo sono morti, muoiono, non se ne parla mai, mai risarciti. E poi tutto il disagio che in Italia esiste e che i nostri governanti non sono stati in grado di poter quantomeno alleviare. Un'altra cosa importante è che non è giusto vedere in tv che un marocchino cammina col cetone in mano, chissà cosa volesse fare, violando la sicurezza di tutti. Questo in Italia non deve esistere. La DC farà in modo, se dovesse andare al potere, che possa essere garantita intanto la famiglia, intanto la sicurezza, il benessere, come una volta c'era, la legalità e la trasparenza, quello che purtroppo oggi non c'è.